Musica Ben trovati tra i spettatori di TV6 appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 25 novembre dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che questa sarà interessata da fenomeni di instabilità diffusa su gran parte del territorio italiano i fenomeni più intensi interesseranno in particolar modo le regioni meridionali mentre lungo le regioni tirreniche e quelle del nord Italia avremo fenomeni di instabilità diffusa ma accompagnata da un regime di variabilità la ventilazione risulterà ancora sostenuta dai quadranti meridionali e i mari saranno generalmente mossi o molto mossi nel dettaglio al mattino sull'Abruzzo avremo condizioni di instabilità diffusa su gran parte del territorio ma si tratterà principalmente di deboli piogge nel corso della mattinata stessa le condizioni meteorologiche miglioreranno velocemente con i cieli che si presenteranno poco nuvolosi o nuvolosi e possibilità di deboli piogge nelle zone interne nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche miglioreranno su tutto il territorio con i cieli che si presenteranno prevalentemente poco nuvolosi vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento